Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About! Nuovo video della rubrica lo scrigno dei campioni di profumi come sapete ho iniziato questa rubrica da qualche video vedo che comunque piace e soprattutto piace a me farla per chi non fosse ancora del nostro canale quindi ovviamente vi invito a iscrivervi e per questa rubrica per chi non la conoscesse io negli anni ho racimolato e ho collezionato dei campioni di profumi sia di nicchia che della profumeria tradizionale e li ho un po' tutti centellinati e messi in varie scatole i più interessanti li ho organizzati a caso totalmente in questo scrigno, tra virgolette, slash bauletto da viaggio in modo proprio da ogni giorno mi sveglio, chiudo gli occhi, pesco 5 campioni me li provo per tutto il giorno sulla pelle e poi il giorno dopo ve ne posso parlare l'estrazione viene totalmente fatta a caso quindi con gli occhi chiusi e tutto quanto per chi mi chiedesse, lo dico sempre in tutti i video ma è bello far vedere anche l'estrazione vi invito ad andare a seguirmi sul mio profilo Instagram in modo che appunto vediate proprio io che prendo e prelevo i 5 profumi e ve li faccio vedere in diretta però come dico sempre i profumi vanno analizzati qualche ora quindi preferisco parlarvene dopo un toto di tempo che ce li ho sulla pelle vanno alle ciance, i prossimi 5 profumi pescati dallo scrigno sono Tango di Musk Milano aggiungi con il suo dolce QB un grande classico Delina La Rosée di Parfum de Marlì il 7753 di Histoire de Parfum e l'ultimo Gritti Acqua Incanta e l'ultimo Gritti Acqua Incanta con il primo profumo ed è Tango di Musk Milano che è un'azienda italianissima appunto vi dico già che è un profumo che conoscevo molto bene avendolo precedentemente in negozio ho dovuto risentirmelo perché non me lo ricordavo assolutamente più mi ricordavo appunto questa ambra che poi si è palesata nell'analizzare questo campione allora Tango è un profumo molto opulento e già un po' la parola Tango vi deve far venire in mente questo quindi vuole ricreare un po' il magnetismo che si crea ballando il Tango con una persona che voi desiderate anche carnalmente quindi era già una bella idea questa di chiamare il profumo in questo modo il profumo in sé è composto da tutte note molto interessanti secondo me ad esempio l'assoluta di gelsomino di Sun Buck che è un gelsomino molto cremoso la rosa di Damasco l'assoluta di Meliloto e queste note di vaniglia e ambra io ve la faccio breve quello che io sento maggiormente come note e soprattutto come armonia di note olfattive è questa ambra estremamente calda ed estremamente licorosa è un profumo che per la mia percezione non userei io sapete che l'ambra non la amo particolarmente cioè a meno che è proprio un po' camuffata ma profumi proprio all'ambra molto secchi caldi e secchi non riesco proprio a portarli in questo caso l'assoluto di gelsomino e la rosa di Damasco non li sento quasi probabilmente perché essendo quasi in estratto il profumo doveva carburare molto e sulla mia pelle magari non è andato a buon fine assomiglia un po' al mood di Coco Chanel classico se vogliamo paragonargli una fragranza o ancora meglio all'ambra di Reminessance quindi questo è un profumo opulento per le amanti dell'ambra e per me vi dico non lo porterei passiamo al profumo di creazione di Arturetto Landi e di Christian Cavagna ed è appunto di Agyumi il profumo si chiama Dolce Cubi Dolce Quanto Basta un estratto che io vi dico avevo ricevuto in regalo da Christian che saluto se ci segue e ringrazio e vi dico poi sono andata su altri lì di sempre della sua profumeria ma Dolce Quanto Basta a me non piaceva particolarmente come note poi ovviamente è tutto soggettivo perché so che è un profumo e immagino sia un profumo estremamente apprezzato per la sua potenza in realtà ci sono un sacco di note all'interno c'è la fragola, il catrame di betulla tre tipologie, tre quantitativi diversi di vaniglie il cuoio e ovviamente l'ambra grigia quest'ambra grigia ragazzi io quando vi dico sapendo che era un profumo molto intenso l'ho provato prima sulla Mouillette ieri mattina e non sono riuscita sono sincera a provarlo sulla pelle è un'apoteosi cioè è l'apoteosi dell'ambra grigia quelle note fredde, animali che al massimo furtissime perché l'ho spruzzato ed è veramente mi è entrato nel cervello mi ha ricordato un po' il mood di Crazy in Love di Montale se qualcuno lo conosce perché è un profumone estremamente ambrato estremamente freddo molto rotondo, molto fumoso io non riuscirei assolutamente a portarlo per la sua intensità e soprattutto perché è basato su un ingrediente su una materia prima che a me non piace per niente passiamo adesso a tutt'altro profumo rispetto al precedente nato nel 2021 quindi un anno molto difficile ed è Delina la Rosé quindi è un flanker del famosissimo Delina lici, pera, rosa turca, note acquatiche, vetive questi sono gli ingredienti per creare una sorellina di Chloé il profumo classico che piace tantissime di noi e di voi soprattutto perché a me Chloé non è chi piace particolarmente ed è una nota di rosa bagnatissima una nota rosa freschissima innocentissima sa proprio di quell'acqua di rose che si utilizzava un tempo per lavarsi il viso è molto rinfrescante ma molto molto muschiato quindi rispetto ai due capostipite che è Delina classico e l'altro flanker che è Delina exclusive sicuramente questo il Delina la Rosé in questione è quello che a me piace di meno ha una persistenza abbastanza bassa ed è veramente troppo leggero e in più questa nota di rosa muschiata a me non fa impazzire è un po' come il Rosy's Mask di Montale però molto più quieto parliamo adesso di un mio grande amore il 7753 di Suard de Parfum mi ricordo che era uno dei primi profumi che ho messo quando sono andata a lavorare appunto in profumeria e 7753 tra l'altro sono le misure della Gioconda quindi di Leonardo da Vinci sono 77 cm x 53 cm quando sono appunto nell'esposizione all'Uvra questo già mi ha affascinato è una ode alla bellezza delle donne non solo nel passato ma eterne quindi senza tempo atemporali stranissimi gli ingredienti è in realtà una base di tuberosa che però non assomiglia per niente alla classica tuberosa a cui siamo abituati c'è la nota del galbano per intenderci note un po' più muschiate verdi terrose un po' come c'è la numero 19 con questa nota di fico d'india succoso bagnato fruttato ribes nero e sandalo e tra l'altro io sento e c'è poi anche scritto in piramide l'edera si sente molto bene quella nota verde molto molto profonda questo è uno dei profumi più particolari veramente che ho sentito nell'intera esistenza è un profumo che sa di plastica rosa è un profumo che sa tra l'altro di acqua di cactus per chi l'ha mai avuto possibilità di sentire come è questa nota questo odore più che altro è una nota bagnata ma nello stesso tempo elettrizzante vi invito davvero ad andare a sentire il 7753 non a tutti piacerà e non tutti sapranno portarlo anzi a qualcuno proprio non piacerà del tutto ma se beccate la persona giusta e il mood giusto è fuori dagli schemi totalmente ed è sicuramente un profumo che vi renderà unici ultimo campione che è uscito dallo scrigno è del 2012 ed è di Gritti azienda italianissima e si chiama Acqua Incanta Acqua Incanta anche in questo caso ce l'avevo questo profumo in full size purtroppo non lo posseggo più ed è un profumo che ricorda molto l'odore dei rossetti sapete che a me fanno impazzire tutti quei profumi che hanno il sentore di make up di cosmetico e ovviamente quest'accordo di cosmetico è sempre 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 dato dalla nota dell'iris con la rosa e molto spesso la violetta sono tre protagoniste che creano questo effetto cosmetico tutto ciò ovviamente è condito dalla vaniglia e dalle note di talco sa effettivamente di rossetto sa effettivamente di fondotinta cioè in realtà Gritti ha voluto omaggiare Gritti è un'azienda storica nel nostro panorama italiano ma con Acqua Incanta che appunto sapendo di rossetto ha voluto omaggiare loro negli anni 40 avevano creato questa sorta di marchio che si occupava appunto di rossetti iconici si chiamavano Akai io adesso non li ho mai provati non li conosco non ci sono penso neanche più in commercio ma hanno voluto un po' ridare vita e un po' omaggiare quello che è stata la loro storia familiare nel panorama anche cosmetico italiano e quindi immaginatevi proprio l'odore del rossetto cioè quegli odori dei rossetti di Chanel e di Dior di un tempo un po' come assomiglia appunto al Lipstick Rose di Frédéric Malle che è uno dei miei profumi preferiti ma ha più note talcate quindi è più e assomiglia anche vagamente a Tend & Edge quindi diciamo che Acqua Incanta per chi conosce gli altri due profumi è un intermezzo tra Tend & Edge di Villoresi e Lipstick Rose di Frédéric Malle è proprio una nota cipriata totalmente cipriata tra il Lipstick Rose rossetto e il Tend & Edge cipria ci ha fatto un mix molto bene ragazzi e ragazze anche per oggi il video è terminato e sono curiosissima di sapere se anche voi conoscete o comunque avete conosciuto questi profumi che vi ho elencato oggi se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti o discritte e noi ci vediamo al prossimo video un bacio let's talk about